Terzo punto, lo ius soli per me è un principio del sacrosanco perché è un dovere, non è soltanto un diritto, è un dovere. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e io sto dalla parte di Paolo Gentiloni sempre, per cui sto al suo fianco e accetto questa decisione con molta collaborazione e cooperazione, quindi nessuna polemica, nessuna discussione, farà il governo ha le scelte che deve fare, ma il principio delle us soli sta insieme al numero chiuso, alla cultura, al rispetto della Costituzione, all'investimento in periferie e all'idea che o l'Europa si riprende un po' anche lei o qui lo smettiamo di pagare i fondi agli altri paesi europei. Sti rodo qui, insieme fanno una politica.